Ben ritrovati amici di WeDeba, il consueto incontro con i gestori WeDeMeet. Oggi con noi Loredana Lapaci, country ready di Goldman Sachs Asset Management. Ben ritrovati, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie per l'invito. Loredana, è da poco iniziata la vostra collaborazione con WeDeba. Come l'avete pensata e come l'avete strutturata? E' con molto piacere che iniziamo questa collaborazione, che ci auguriamo sia di lungo periodo. Cosa portiamo a WeDeba? A WeDeba vogliamo portare la ricerca di Goldman Sachs Asset Management, il know-how e le soluzioni di investimento insieme ad un servizio con il quale ci stiamo proponendo in Italia ma anche in Europa verso il mercato retail e del private banking. Goldman Sachs Asset Management gestisce in questo momento oltre un trilione diverse classi di attivi. Siamo presenti in 35 centri finanziari del mondo e con 2000 professionisti riusciamo veramente a coprire tutte le asset class tradizionali e non. Quello che proponiamo a WeDeba oggi è un servizio e soluzioni di investimento che partono dalla ricerca macroeconomica che tipicamente nel mondo Goldman è sempre il punto di partenza per andare non solo a leggere i mercati ma a trovare poi delle soluzioni di investimento che implementino veramente quello che può permettere in questo momento che è un momento molto particolare, tassi di interesse molto bassi, volatilità che è ritornata con grande forza nel primo trimestre del 2016 ed è destinata a rimanere con noi per molto tempo proprio per navigare questi mercati avendo delle soluzioni con diversi profili di rischio rendimento che vadano a diversificare un portafoglio, un asset allocation contenendo quella che è la volatilità del portafoglio. Ovviamente tra le caratteristiche principali del mondo Goldman Sachs and Management a parte la ricerca menzionata ci sono anche l'innovazione tecnologica ma soprattutto il controllo e la gestione del rischio che è fondamentale nel poter costruire delle soluzioni intorno ad un baggio di rischio che viene sempre monitorato. Detto questo, quello che oltre alle soluzioni di investimento ci proponiamo di fare è un servizio che dalla lettura del mercato e suggerimenti su dei portafogli possa anche offrire l'educazione finanziaria necessaria per poter spiegare, affrontare e investire nelle soluzioni di investimento che veramente corrispondono alle esigenze dei clienti. E proprio per l'Italia e per Udiba avete pensato anche un servizio ad hoc, di cosa si tratta? Sì, abbiamo lanciato sul mercato italiano, proprio sulla distribuzione retail private banking un servizio chiamato Strategic Advisory Solutions che mira a fornire delle competenze di alto livello per aiutare proprio i clienti a comprendere i mercati dinamici di oggi. Quindi forniamo delle newsletter settimanali, mensili e trimestrali di lettura dei mercati e conseguente implementazione quindi idee di implementazione all'interno dei portafogli completamente esegato dalla nostra offerta commerciale. La pubblicazione si chiama Market Know-how quindi conoscere e capire come gestire il portafoglio è una pubblicazione trimestrale corredata anche da una conference call con uno dei nostri macroeconomisti che parla italiano basato a Londra che permette proprio di avere a tutti i nostri clienti e a Udiba un contatto diretto anche con la nostra ricerca macroeconomica e con i nostri macroeconomisti. Insieme a questo forniamo anche delle idee di portafogli modello e quindi con delle visioni strategiche e tattiche e dei moduli di educazione finanziaria. Quindi formazione ma anche informazione tutto questo è appunto Goldman Sachs Asset Management per Udiba. Io allora ringrazio Loredana Lapace Country Headed di Goldman Sachs Asset Management per essere stata con noi. Grazie a voi. E sempre per Goldman Sachs Asset Management è con noi Matteo Bononimi Executive Director Asset Management di Goldman Sachs International. Ben trovato Matteo, grazie per essere con noi. Allora Matteo, in un contesto di tassi bassi quali sono le strategie di investimento di Goldman Sachs? In questo scenario di mercato noi prevediamo una volatilità che resti abbastanza su livelli sostenuti per tutto il 2016. Perciò vediamo con grande favore tutte quelle che sono le strategie legate al mondo dei liquidi alternative. Con particolare riguardo noi abbiamo un prodotto che si chiama Global Strategic Macro è un prodotto relative value che ha una funzione di abbattitore della volatilità e decorrelazione. In questo contesto di mercato appunto noi preferiamo avere determinati tipologi di strumenti facenti parte del mondo dei liquidi alternative che riescono a dare decorrelazione ai portafogli. E allora rimanendo in tema di scelte di portafogli e senz'altro una delle componenti fondamentali all'interno di un portafoglio è il comparto obbligazionario. In questo senso come vi state muovendo? All'interno della componente obbligazionaria stiamo guardando con rinnovato interesse il mondo degli emerging market. La questione è sempre fra local currency e hard currency. In questo momento come ho detto prima caratterizzato da ampia volatilità noi preferiamo il mondo delle hard currency. In questo comparto obbligazionario noi abbiamo uno strumento che è il Global Emerging Market Depth of Currency uno strumento storico di Goldman Sachs con un lunghissimo track record e una size veramente importante 4.6 billion. Perciò all'interno della componente obbligazionaria cominciare a incrementare tatticamente e strategicamente posizioni nel mondo emerging market per noi è sicuramente una scelta vincente. Mi immagino che ci sia anche un paese specifico al quale state guardando ce n'è qualcuno così? Dal punto di vista azionario sicuramente sì siamo favorevolmente positivi sulla componente azionaria europea e giapponese e all'interno del mondo emerging market l'India resta sicuramente un paese di grande interesse date le riforme strutturali e fiscali che sono in atto all'interno del governo. Queste quindi le strategie di investimento di Goldman Sachs Asset Management è stato con noi Matteo Bononimi Executive Director Asset Management di Goldman Sachs International grazie Matteo per essere stato con noi grazie mille a tutti voi grazie allora amici di Udiba per averci seguito al prossimo appuntamento di Udiba Meet Grazie mille a tutti i nostri spettatori grazie mille a tutti i nostri spettatori grazie mille a tutti i nostri spettatori grazie mille a tutti i nostri spettatori